L'amministrazione comunale di Taranto, l'amministrazione Melucci non sa proprio cosa sia la manutenzione. Bene, quanto io sto affermando è facilmente constatabile, facendo un giro in città, vedendo lo stato di strade, marciapiedi e quant'altro, le buche, le voragini si aprono a ogni piesso spinto e ora c'è anche una nuova moda, come vedete. C'è lo sprofondamento, c'è la buca, non si interviene, si mette la transenna e, come si suol dire, chi si è visto, si è visto. Buonanotte al secchio. Siamo infatti in via Campania, all'altezza quasi di via Medaglie d'Oro. Guardate qui, è sprofondato il manto stradale, sono state anche messe sopra delle pietre e da circa due mesi, se non più, giace la transenna, la leggete, la vedete, Polizia Locale Comune di Taranto. Non si interviene, si mette, per così dire, in sicurezza l'aria e ormai la città è diventata piena, piena, piena di queste transenne con le buche, gli sprofondamenti e quant'altro, al punto tale che poi magari potremo festeggiare anche mesi, il compleanno dello sprofondamento e il compleanno della messa appunto della transenna, della collocazione della transenna. è un qualcosa di veramente vergognoso, un'amministrazione Melucci che racconta tante favole, che racconta le favole della transizione e poi non è in grado di assicurare il minimo, il minimo, perché riparare una strada, colmare una buca è il minimo vitale. Non chiediamo le favole, le cose stratosferiche, gli inglesismi che usa Melucci e usano i suoi adepti, ci accontentiamo del poco, quel poco che ci viene negato. Eppure il cittadino paga le tasse, vedete per esempio proprio di questi giorni latari, il cittadino profumatamente paga le tasse e cosa riceve in cambio? Servizi schifosi, proprio come questo. Grazie a tutti.